vi ricordi? numero uno numero due numero tre non mi ricordo non mi ricordo ma questo qua è il quattro ecco si ricorda il proprio suo nome il nome è proprio bene proprio adatto come parole sanscrito perchè questo è un esercizio antico indian culture cultura indiana antica che è praticata dalla maharishi maharishi vuol dire santo loro praticava sulla proposta di isolato perchè non c'è medico lì non arriva un medico sulla montagna loro facevano una alto corrigione mentre che facendo proprio meditazione pratica sulla diciamo meditazione